e come da tradizione si svolge in contemporanea in 30 città italiane. Allora iniziamo andando nella capitale a Roma da Stefania Cappa. Buongiorno a voi, sono allo Stadio Bernardini alla Wisp a Roma e da qui è partita la Vivi Città, questa corsa per questa maratona che è una maratona competitiva e anche ludica, ludicomotoria. Sono 10 chilometri a tappe e questa è la prima qui a Pietralata, oggi il sole ci ha regalato una bellissima giornata, 30 le città coinvolte in Italia e anche tantissime città all'estero. Che cosa significa questa maratona, che cosa significano questi colori che indossate? I colori che indossiamo oggi sono i colori della bandiera della pace, quindi quando arriveremo in Campidoglio ci stringeremo, ci abbracceremo e daremo il nostro messaggio di pace, che poi nel nostro piccolo è una delle pochissime cose che possiamo fare. Però noi podisti, atleti, vogliamo dare questo messaggio. Una maratona che è la ripartenza. Ripartenza affinché possiamo poi arrivare al punto di, come diceva giustamente lei, un motivo di pace. Noi arriveremo adesso nelle varie tappe, faremo sette tappe nei vari punti, Amnesty International, altri posti qua, e ognuno ci avvicineremo, insieme a noi, altre persone con altri colori. Quindi alla fine avremo 20, 30, 40 persone all'arrivo al Campidoglio, ognuno con una maglietta quasi diversa, cioè 2, 2, 2, 2, in maniera tale che avremo fatto tutta la bandiera. Un segno, quindi un segno, un simbolo di pace. Da qui è tutto, vi restituisco la linea, grazie. Ed è il nostro ospite studio, il presidente WISP, Tiziano Pesce, benvenuto a Reni24. Grazie, buongiorno per questa bellissima opportunità. Dunque, presidente, allora, si torna a correre, è un momento importante, e tornate con due parole chiave, ripartenza e pace. Sì, lo abbiamo visto nel servizio di poco fa, dedicato a questa particolare staffetta romana che ha voluto mettere insieme la periferia e il centro, passando per alcuni punti veramente importanti, sotto la sede di UNHCR, sotto la sede della scuola di San Donato, l'istituto scolastico più multietnico della capitale, sotto la sede di Amnesty. Una staffetta particolare che ha messo insieme però altre 30 città in Italia, decine di migliaia di partecipanti, per due motivazioni molto, molto importanti. Il tema della ripartenza, della ripartenza dell'attività sportiva, del lavoro di tantissime associazioni e società sportive. Abbiamo visto, stiamo vedendo immagini veramente particolari, c'è voglia di rimettere le scarpette, di camminare e di correre, ma purtroppo è una vivicità che non abbiamo affatto altro che dover dedicare alla pace. Quindi la corsa della pace. Oggi si corre, si cammina, perché accanto alla corsa competitiva sui 10 chilometri c'era la possibilità, c'è la possibilità di camminare al proprio passo per veramente tutte e tutti. Ma oggi è stata la corsa anche a Succiava, con questa presenza per noi molto particolare, a poco più di 40 chilometri in Romania dal confine con l'Ucraina, dove una nostra delegazione di operatori esperti di cooperazione internazionale si è recata in questi giorni per portare sollievo soprattutto ai più giovani. Ecco, avete avuto anche già dei primi riscontri dei partecipanti di questa gara che dunque si è svolta proprio al confine tra Romania e Ucraina? Sì, ovviamente lì l'aspetto competitivo era assolutamente simbolico. Lì l'importante era portare lo sport sociale, il nostro sport per tutti, soprattutto per alleviare la sofferenza di migliaia di bambine e di bambini. Succiava appunto quasi al confine con l'Ucraina. È uno dei campi profughi più numerosi che si sono creati in queste settimane. Abbiamo portato la corsa, abbiamo portato il cammino, abbiamo portato tante attività ludiche con questa nostra delegazione guidata dalla responsabile delle attività per la cooperazione internazionale di UISP e dalla responsabile delle politiche educative. C'è parallelamente un grande impegno della UISP in queste settimane attraverso i nostri comitati, attraverso le nostre associazioni e società sportive per ovviamente supportare al meglio, per accogliere al meglio soprattutto i giovani profughi che in queste settimane stanno arrivando in Italia. Presidente, dicevamo 37esima edizione, com'è cambiata ViviCittà in tutti questi anni? Diciamo che ViviCittà è nata per promuovere diritti, per garantire la partecipazione a tutte e a tutti. È sempre stata legata alla promozione di diritti, all'ambiente, alla solidarietà. È sempre stata legata alla pace. I primi anni sicuramente ViviCittà si correva e camminava soprattutto per lanciare un messaggio legato alla fruibilità dei centri storici. Da quegli anni, da quella prima edizione, dal 1984, sicuramente sono stati fatti passi in avanti giganteschi. Pensiamo ai centri storici delle maggiori città liberati dal traffico. Poi ViviCittà è sempre stata messaggera di pace. Nell'edizione internazionale in questi anni abbiamo corso veramente un po' dappertutto. Abbiamo corso a Sarajevo, a Tuzla e all'indomani del conflitto nei Balcani. Abbiamo corso a Beirut, abbiamo corso a Bagdad, abbiamo corso a Gerusalemme Est. Quindi diciamo una ViviCittà che è sempre stata al passo con i tempi e continua a gridare forte. Ecco, l'esigenza sempre di una maggiore attenzione nei confronti dello sport di base, nei confronti dello sport sociale, nei confronti di uno sport che è socialità e anche competizione, ma soprattutto è prevenzione e promozione della salute e benessere delle nostre comunità. E allora grazie, grazie davvero Presidente Tiziano Pesce. Grazie a voi.